Torna per il terzo anno consecutivo la festa dell'onestà, la manifestazione che ricorda l'omicidio di Viesidoro Carini, 36 anni dopo l'uccisione del generale Carlo Alberto Dallachiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo. Quest'anno la manifestazione raddoppia e sono due le giornate previste, domenica 2 settembre dalle 9 alle 23 e lunedì 3 dalle 11.30 alle 21.30 lungo il Cassaro di Palermo. Ma non solo, per la terza edizione della festa dell'onestà verrà ricordato anche il beato Don Pino Puglisi a 25 anni dal suo assassino in attesa della visita di Papa Francesco a Palermo, proprio nell'anniversario del prossimo 15 settembre. Nella giornata di domenica, dopo l'inaugurazione e l'apertura degli stand espositivi lungo il Cassaro, si susseguiranno dibattiti, presentazioni di libri, attività culturali, iniziative per bambini. Parteciperanno le forze armate, la fanfara del XII Reggimento Carabinieri Sicilia e la fanfara dei Bersaglieri. Nella mattina di lunedì, invece, l'omaggio floreale dei bambini alla lapide del prefetto dalla Chiesa, alla presenza delle più alte cariche, civili, militari e religiose nella città e con la partecipazione del professore Nando Dallachiesa, degli studenti e il progetto Università Itinerante dell'Università Statale di Milano. La terza edizione della festa dell'onestà, spiega Giovanna Naldi, presidente dell'associazione Cassaro Alto, evidenzia il concetto secondo il quale, citando il beato Don Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa, si può fare molto. Questa è l'idea portante dell'impegno civile, cui la manifestazione di quest'anno è intitolata nel nome di Carlo Alberto Dallachiesa e di tutti quanti hanno fatto del proprio impegno sociale e professionale strumenti e occasioni di promozione della comunità. La festa dell'onestà è un evento organizzato dall'associazione Cassaro Alto e da Ballarò significa Palermo, insieme con il Comune, con il contributo della Confcommercia dell'Aeroporto di Palermo e con il coordinamento del Comitato Scientifico, composta da Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi. La festa dell'onestà è inserita nelle iniziative di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.